Sì, molto velocemente. L'emendamento che già avevo preannunciato nell'esposizione della proposta, avevamo come commissione indicato il 31 dicembre come data ultima. In realtà è stato ampiamente ricordato, i tempi della scuola sono diversi, quindi la data deve essere fissata al 30 settembre, quindi rimane il termine 31 di luglio con diritto di ritardo entro e non oltre il 30 di settembre con il pagamento di una piccola quota per il ritardo. Grazie.